Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui in questo bellissimo showroom insieme a voi e io volevo chiamare il titolare Giuseppe Catalano. Giuseppe, eravamo dietro le tinte a fare dei chiacchiere e chiamerei il presidente e amministratore delegato della Nissa d'Italia Marco Toro. Come va? Allora Marco raccontaci un po', oggi è una giornata di festa, siamo qui a celebrare ma abbiamo un sacco di novità quindi siamo pronti ad ascoltare tutte queste novità. Benissimo, buonasera a tutti, grazie Isabetta di essere qui con noi è veramente un piacere, un onore per noi averti con noi. Ma siamo qui per tre circostanze, tre celebrazioni la prima io direi è il compleanno, venti anni di Nissa auto con Nissa. Seconda circostanza che evidentemente celebriamo è l'apertura di questa nuova sede, vi spiegheremo poi come mai Nissa auto apre in questa nuova sede e ovviamente celebriamo anche il lancio della nostra auto di punta che è il Nissan Qashqai. Bene, quindi vent'anni come dicevi tu sono veramente tanti, è un'età importantissima. Che opinione ha Nissan Auto di Nissan? Beh l'opinione è ovviamente positiva, molto positiva il fatto di essere qui insieme, avere l'onore di avere il presidente della Nissan Italia con il suo staff è molto positiva, sono molto contento, è un lavoro fatto insieme alla mia famiglia e che continueremo a farlo. Il nostro obiettivo è quello di continuare, di migliorarsi continuamente e di guardare al futuro con ottimismo. Con ottimismo, visto il periodo. E invece Nissan Auto, che opinione ha di Nissan? Facciamo le domande al contrario. Ma allora, io ho avuto la fortuna di vederli crescere, perché lo ricordavamo stamattina con Giuseppe, io ero direttore di area quando Nissan Auto fu nominato nel novembre del 2001, io ero capo area, avevo qualche capello nero in più, anche tu Giuseppe, qualche capello nero in più e li ho visti crescere e devo dire che questa crescita è stata sicuramente una crescita molto, molto positiva. lo dimostrano i numeri. Nissan Auto condivideva la piazza di Torino con un altro concessionario, è nato con Nissan con una sede sola oggi ci ritroviamo a celebrare l'apertura della quarta sede su questa piazza e lo celebriamo come unico concessionario Nissan su Torino quindi ha sbaragliato la concorrenza, ha investito per la marca, questa è la quarta sede e la marca lo ha ricambiato con una estensione di territorio la cosa migliore che può fare la marca in concreto per ricambiare la fiducia, è un territorio che cresce del 50% concessionario esclusivo su Torino, si è meritato assolutamente con il sudore, il sacrificio, tanto lavoro suo e tutta quanta la squadra che oggi ce ne abbiamo qui, quindi l'opinione è assolutamente positiva. Bene, bene ovviamente, sono molto felice. Si parla di investimento in questo periodo che è un periodo veramente difficile gli ultimi due anni per tutti noi ci ha visto veramente attraversare dei momenti molto difficili, gli investimenti che avete fatto quindi sono degli investimenti molto importanti e ci vuole molto coraggio. Beh, assolutamente sì, noi cerchiamo ovviamente di dargli una mano e quindi ricordo ancora Giuseppe quando mi chiamasti ero in macchina, ricevessi questo assegno di Nissan a parziale copertura del tuo investimento che però evidentemente ti fece piacere, era il minimo e quello che ti sei meritato, quindi come casa intanto cerchiamo di appoggiarti con un investimento e poi il miglior supporto è accompagnare il lancio di una nuova sede con il lancio di un nuovo prodotto e quindi puoi sviluppare una campagna di comunicazione che serve ad accelerare la fase di lancio. Ovvio, io mi propongo per la prossima campagna Nissan, non è così sapevo. Senz'altro. No, a proposito di campagna, io ho visto comunque tante affissioni, tante pubblicità, Torino tappezzata. È vero, abbiamo sviluppato una campagna per loro, loro hanno scelto dal giorno 1 di identificarsi molto con la marca perché si chiama Nissan Auto. Io ricordo ancora che quando fosti nominato dovevamo fare un interpello al Giappone per sapere se potevi rubarti il nome Nissan e il nome della tua concessionaria. Quindi ti sei sempre contraddistinto come Nissan e quindi abbiamo sviluppato una campagna di comunicazione giapponese quindi con il sollevante al centro e tre elementi che Nissan ha come elementi distintivi quindi l'innovazione, la tecnologia e l'excitement. Te li spiego? Io di questo ne vado orgoglioso e ringrazio il Presidente, lo ringrazio per il contributo comunque che è stato molto sostanzioso ed è stata la prima volta, te l'avevo detto, te l'ho detto davanti a tutti e ti ringrazio di nuovo, è stato veramente molto molto, da parte nostra molto gradito. La comunicazione è fantastica, andremo avanti ancora altri mesi, non è finita, è solo l'inizio questo. Quello che noi faremo qui, io e la mia famiglia e tutti i nostri collaboratori è veramente di dare grande lusso al Torino, al marchio che rappresentiamo e dare grande soddisfazione alla Missa Italia e al Presidente, dunque Marco Toro, è questo uno dei nostri obiettivi. Parlavamo della campagna di comunicazione, Isabetta, credo che sia interessante cercare di distinguerci, no? Oggi un po' tutte le case arrivano sul mercato con prodotti assolutamente validi e noi abbiamo cercato di inserire all'interno della campagna di comunicazione questi elementi su cui pensiamo che come Nissan possiamo raccontare qualcosa di diverso. In innovazione io direi tre cose essenzialmente, noi abbiamo innovato creando un segmento di mercato quello del Qashqai che non esisteva e soprattutto qui a Torino, questa è stata sempre la città delle auto piccole quindi il cliente italiano era sempre abituato a queste auto di piccole dimensioni noi con Qashqai abbiamo innovato, creato un segmento di mercato che non esisteva e che oggi rappresenta il 40% del mercato, la maggioranza degli italiani acquista auto con le vuote alte quindi questa è sicuramente un'innovazione. L'altra innovazione è il veicolo elettrico il veicolo elettrico è tecnologia all'avanguardia come innovazione però abbiamo aggiunto un'altra innovazione in questo processo che va verso l'elettrificazione oggi il mercato va sempre di più, oggi 40 italiani su 100 acquistano un'auto elettrificata parte di questa elettrificazione è l'ibrido, parte l'elettrico noi lanceremo appunto con Qashqai una motorizzazione nuova che si chiama e-Power che è quello che noi chiamiamo Ti voglio proprio fare questa domanda, esatto i punti di forza di lista li possiamo trovare nel nuovo Qashqai ma che cos'è il Nissan Qashqai? Spieghiamolo Sì, come dicevo il Qashqai è il pioniere quindi l'auto che ha creato questo segmento di mercato che oggi, ripeto, con l'aggiunta del suo fratello minore laggiù che il crossover più piccolo rappresenta appunto il 40% del mercato per noi ovviamente il modello di punta la nostra regina della gamma e ovviamente su quest'auto mettiamo poi il massimo di quello che possiamo fare quindi come dicevo sarà la prima auto della gamma Nissan qui in Europa a essere equipaggiata con il motore e-Power questo elettrico senza spina quindi un'auto che ha un motore 100% elettrico che è l'unico responsabile della trazione delle ruote e quindi funziona come auto elettrica sia alle basse che alle alte velocità è un motore a benzina che non fa nient'altro che da generatore per ricaricare la batteria dell'auto e quindi a differenza di un ibrido che invece va elettrico solo alle basse velocità questo è un'auto che va elettrico a tutte le velocità e a differenza di un elettrico che ha bisogno di ricaricare alla presa di corrente per poter essere ricaricata la batteria in questo caso andiamo dal benzinaio mettiamo benzina e ricarichiamo la batteria quindi è una soluzione che crediamo adatta assolutamente adatta ma secondo te perché in Italia questo elettrico poi non ha preso questa piega così importante ancora? sì cos'è che non convince al 100%? cosa sta succedendo secondo te? ma noi facciamo tante inchieste lo chiediamo ai clienti i clienti quello che ci dicono innanzitutto è non lo conosciamo ancora oggi tantissimi clienti se facessimo qui un'inchiesta troveremmo che siano un 5% di voi a cui dato un'auto elettrica e 95% no quindi la prima cosa che dobbiamo fare è fare provare l'auto perché poi il cliente che prova l'auto elettrica se ne innamora allora noi come Nissan abbiamo una scelta molto importante che è quella di lasciare al cliente la vettura per due giorni per fare un test drive lungo il classico casa, ufficio, supermercato, scuola, quello che sia per provare se effettivamente l'auto è adatta ai nostri bisogni non il classico test drive di 20 minuti attorno alla concessione ma un test drive lungo è un investimento che fa la marca e siamo convinti che toglierà al cliente questi dubbi sull'elettrico una volta conosciuto l'auto è il secondo dubbio che ha il cliente sul prezzo perché l'auto elettrica normalmente viene considerata come un'auto più cara ed è così se non ci fossero gli incentivi qualsiasi tecnologia nuova ha bisogno di essere sviluppata per essere più economica io faccio sempre un po' l'esempio dell'aria condizionata quando in macchina tanti anni fa volevamo mettere l'aria condizionata costava 2 milioni, una cosa del genere pochi se lo potevano permettere se apriva il deflettore oggi non esiste auto che non abbia l'aria condizionata perché abbiamo sviluppato la stessa cosa vale per l'auto elettrica finché rappresenterà solo il 3-4% del mercato avrà un costo di produzione più alto e quindi dobbiamo lavorare noi come case e le istituzioni per mettere a disposizione del cliente degli incentivi che permettano di ridurre il prezzo e renderlo quanto più possibile vicino all'auto di combustione senza dimenticare che un cliente che compra un auto elettrico non solo con gli incentivi può avere un prezzo ragionevole ma poi deve ricordare che risparmia circa 2 mila euro all'anno in costi d'uso perché l'energia elettrica come carburante costa di meno della benzina perché il costo della manutenzione è il 40% inferiore a quello di auto di combustione perché se parcheggiamo su linee blu non paghiamo tutto questo vale circa 2 mila euro all'anno se consideriamo che un italiano medio possiede l'auto per 11 anni 2 mila euro per 11 anni fanno 22 mila euro che guarda caso è il costo di acquisto di un'auto dopo gli incentivi quindi sicuramente il prezzo può non essere una barriera se come case e come governo facciamo la nostra parte per ultimo l'ultimo blocco del cliente è dove lo carico non vedo colonnine non so dove siano come posso fare per ricaricarlo anche in questo caso come Nissan abbiamo un'esclusiva perché noi regaliamo al cliente il caricatore e glielo installiamo gratuitamente a casa sua ci sono ancora tanti clienti che pensano che se si trovano in un condominio devono chiedere autorizzazioni al condominio per l'installazione della colonnina non è così oggi bisogna solamente informare però non si conoscono queste cose quindi noi come Nissan una volta delegati dal cliente ci preoccupiamo di tutto quanto e se il cliente non ha un posto auto dove poter mettere il caricatore lo mandiamo in concessionaria a ricaricare a un prezzo circa del 40% più basso rispetto a quello che trova sul mercato e se non è contento del concessionario può andare alle colonnine e nel X che sono sul territorio ricaricare incredibilmente per due anni e avere anche attraverso Enel uno sconto sulla bolletta della luce quindi i tre blocchi non lo conosco è caro non so dove caricarlo come Nissan abbiamo la risposta bene no? direi ottimo ti avrei voluto come compagno di banco ai tempi della scuola vogliamo aggiungere qualcos'altro oppure possiamo andare a fare il taglio del nastro e il nostro brindisi? ma io direi una cosa prima ho un po' esagerato forse i miei complimenti lui già adesso rideva tutto quanto dicevo ma adesso non si può migliorare quindi un concessionario bravo che ha avuto un'estensione di territorio che è diventato concessionario del terzo mercato più importante gli vogliamo lanciare una sfida perché sennò poi si siete e non ci migliore invece noi ti vogliamo tenere vivo così come sei e ti vogliamo lanciare una sfida vediamo un attimo che sfida ti vogliamo lanciare allora innanzitutto come giapponese abbiamo fatto Nissan Auto Nissan abbiamo fatto una campagna giapponese ti vogliamo lanciare una sfida come fanno i giapponesi come fanno i giapponesi la sfida utilizzano chi me la dà un minuto che sta arrivando e allora nel frattempo che arriva la cerimonia giapponese che sfida ti lanciamo allora tu oggi sei concessionario situato nel terzo mercato per importanza però a livello di performance complessiva quindi vendita post vendita qualità e finanziaria ancora sei fuori da quella che si chiama la nostra elite la top ten dei concessionari in Italia sei molto vicino a questa top ten però noi ti vogliamo portare in questa top ten diciamo che ancora non è la Champions League perché la Champions League sono i primi tre o quattro ti vogliamo portare almeno in Europa League per usare la tecnologia con il calcio quindi la nostra sfida è di portarti intanto a posizionarti nella top ten e ovviamente non appena sarai nella top ten ti nasceremo un'altra per arrivare nella top tre però ti vogliamo bene quindi non ti vogliamo mettere subito pressione quindi top ten minimo speriamo adesso che faremo questa cerimonia che tu possa arrivare nella top ten questa è la sfida che ti vogliamo lanciare non solo come vendita ma nel combinato di vendita post vendita soddisfazione cliente e finanziaria come facciamo questa sfida lo facciamo con il Daruma che cos'è questa bambolina che si chiama Daruma allora come vedete ha due occhi tutti e due bianchi cosa fa il giapponese il giapponese è un po' quello della cultura del samurai quello che si sfida e arriverebbe anche a dare la sua vita per raggiungere quella sfida quindi ci si mette seriamente cosa fa il giapponese quando lancia una sfida di questi due occhi ne colora uno solo uno e quando questa sfida si completa colora l'altro nel frattempo durante questa sfida che ovviamente è sfidante quindi tu devi arrivare nel top ten questo Daruma viene lasciato con un occhio sì con un occhio no e ti guarda tutti i giorni è la tua vita e ti ricorda ti ricorda però ricorda eh ti ricorda quindi tu lo vedrai quindi noi te lo vogliamo mettere in un posto diciamo dove io non posso vedere tutti i giorni ovvio no potrei dire a casa tua però siccome sei più tempo in concessionaria che a casa meglio che lo mettiamo in concessionaria lo mettiamo a vista d'occhio tua e io ti vedo gli altri e quindi poi quando arriverai nella top ten coloreremo di nuovo l'altro occhio assiduo di questa sfida che si è compiuta allora per farlo alla maniera giapponese questo occhio lo divideremo in due anzi io suggerisco in tre perché qui ci sta mancando Riccardo l'altro catalano dove sta? vieni 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 e quindi coloriamo l'occhio in questa maniera quindi io divido l'occhio in due una parte la coloro io e poi vi divido l'altro occhio a metà e ciascuno di voi due ne firmerà una metà ok? Perfetto per anzianità al buon Giuseppe devi colorare questo quarto non imbalere quella di tuo figlio no solo questo so che sei un po' esuberante e cerchi di lasciare qualche cosa Riccardo il nuovo è una cosa che non ci aspettavamo giapponese quindi come vedi la stessa cosa che abbiamo fatto adesso la faremo quando arriverai nella tutela e per cortesia fatemi una telefonata quando accadrà questa cosa grazie ti metto una data oggi 22 23 9 21 e ti scrivo adoro l'ultima cosa che dice questa tradizione giapponese è legata alla forma di questo daruma perché il daruma ha questa forma ovoidale lo simulo qua perché mi serve un posto in cui si possa muovere il giapponese che dice che se la sfida è una sfida forte questa bambolina sarà sottoposta alle intemperie al vento a ostacoli troverai ostacoli durante il tuo cammino e quindi questo daruma deve tornare in piedi questa forma rappresenta la tenacia la perseveranza che dobbiamo avere durante questa sfida in maniera tale che questo daruma lo riportiamo sempre in piedi in tempere che si chiamino covid che si chiami qualsiasi cosa ricardo gli consegni quello che sia dobbiamo avere la forza e la perseveranza di farlo tornare in piedi fino a colgare l'altro occhio io direi che andare a fare il taglio del nastro assolutamente 3 3 0 Grazie a tutti